E questo governo è quello che per l'operazione Mare Nostrum e poi Triton ha speso l'anno scorso un miliardo e duecento milioni di euro, che sono i famosi 35 euro al giorno per i clandestini, e ha tagliato due miliardi e mezzo agli enti locali. Tagliare due miliardi e mezzo agli enti locali significa che i campetti di periferia a Catania, ma come anche nel profondo nord, dove anche a nord ormai ci sono delle situazioni di degrado per cui nelle periferie sarebbe fondamentale un intervento dei comuni, delle associazioni, vuol dire sottrarre queste risorse? Il discorso è che è una scelta politica, si tagliano i soldi ai comuni, quindi si fanno meno campetti da calcio e si usano i soldi invece per il cara di Mineo, per mafia capitale, e quindi sono scelte politiche.